Musica Nipotini buongiorno, come state? Non vedevo l'ora, finalmente cavolo Siamo all'aria aperta, finalmente si torna in montagna finalmente si torna a volare Oggi faremo una bella scarpinatina il primo tiro ce lo facciamo con l'opovia poi dopo suola i tacchi si torna a camminare, a stare all'aria aperta e finalmente si torna anche a volare con il drone spero che queste riprese vi piacciono è una giornata pazzesca quindi se le riprese vengono male è proprio colpa mia perché sono pieno però questo già lo sapevate Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non vi costa niente e buona giornata.